Io ieri mattina avevo fatto protocollare la richiesta verso l'avvocato Marco Giuri che è il DPO del Comune Arezzo in merito alla famosa DPA che è la valutazione dell'impatto che questo progetto poteva avere sia sui cittadini ma anche sugli operatori. Così la risposta del comandante della Polizia Municipale di Arezzo Aldo Poponcini all'indomani della richiesta del garante della privacy di alcuni documenti riguardanti la sperimentazione degli occhiali intelligenti. Tre i kit dei lab glasses che sarebbero stati forniti al corpo di polizia e la sperimentazione sarebbe iniziata ai primi di dicembre. In sostanza l'agente dotato di questi occhiali può inquadrare la targa di un veicolo ed essere messo subito a conoscenza attraverso l'accesso alle banche dati di un'eventuale infrazione. Ma voi con questi occhiali acquisite dati che normalmente il cittadino non esibisce cioè entrate nella privacy in maniera diversa e più invasiva oppure no? No, invasiva no perché noi e le altre forze di polizia i dati relativi ai veicoli e agli conducenti che si hanno normalmente. Quindi già con la richiesta dei documenti, quindi patente di guida e carte di circolazione c'è una documentazione che viene già in atto e in uso dell'organo accertatore. Un progetto sperimentale come questo che è un progetto e è stato ribadito anche nella prima conferenza stampa relativo a una notificazione digitale col PND accelerata di eventuali violazioni ma comunque l'agente che lavora su strada si accerta dei dati del conducente del veicolo. L'autorità ha aperto un'istruttoria nei confronti del comune per la sperimentazione dopo che i documenti richiesti saranno acquisiti si capirà dunque se il progetto sarà attuabile o meno. Si cercherà di fornire tutti gli elementi e tutta la documentazione che ci viene richiesta dal garante a livello nazionale. No, comunque il controllo continuerà a essere effettuato dalle pattuglie. Quindi su questo punto se poi verrà utilizzato l'occhiale col visore a dicembre o a gennaio questo non lo posso assicurare. La intenzione del comando è quella di proseguire su questa sperimentazione. L'autorità con una nota ha messo in luce anche l'aspetto sindacale del progetto e cioè se esso rispetta o meno le garanzie previste dalla disciplina privacy e dallo statuto dei lavoratori. Su questo, precisa Poponcini, abbiamo un'apposita informativa che avevamo già predisposto e che sarebbe stata inviata a tutti i lavoratori. La scelta di utilizzare gli occhiali intelligenti è su base volontaria.